voglio ringraziare il gruppo che mi accompagna che abbiamo fatto moltissime prove ci siamo visti un momento fuori abbiamo detto facciamo questo quindi sono bravissimi grazie quando sei qui con me questa stanza non ha più pareti ma alberi alberi infiniti quando sei qui vicino a me questo soffitto violano non esiste più io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente più niente al mondo suona un'armonica mi sembra un organo che vibra per te e per me su nell'immensità del cielo per te e per me nel cielo suona un'armonica mi sembra un organo che vuoi L'organo che vibra per te e per me su un'immensità del cielo, per te e per me ne c'è. L'organo che vibra per te e per me ne c'è. Grazie. Grazie.